Anteprima di Chimera, oggi una puntata veramente particolare, parliamo di un argomento che ha un pochettino suscitato l'interesse di tantissime persone a livello regionale, ma non solo anche a livello nazionale. Parliamo ovvero della notizia che ha investito l'Abruzzo agli inizi di agosto del 2024, ovvero di presunte corse clandestine presso il comune di Vasto, località Punta Pena. Non ci troviamo in un soborgo di Bogotà, con tutto il rispetto per Bogotà, ma per la tranquilla cittadina di Vasto. Ne parleremo direttamente con le persone che hanno avuto un ruolo oggettivo su questa vicenda fra qualche secondo qui su Chimera. Il Barbershop Mancini è un nuovo concetto di barberia, dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali Air Tattoo e barba con vaporizzazione e ozonoterapia. Il Barbershop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in Via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barbershop Mancini Barbershop Mancini Mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo di 7-2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica. mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro pc, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36.000 persone. Anzi, 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici. Anzi, 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri risultati. Eccoci, finalmente partiamo con questa nuova puntata di Chimera. Oggi, lo abbiamo detto nell'anteprima, parleremo di un argomento che ha fatto saltare tante persone dalla sedia agli inizi di agosto del 2024, ovvero di possibili corse clandestine presso il comune di Vasto. Ne parleremo con il signor Marco Cannarza, comandante provinciale GEAV e soprattutto la persona che fisicamente ha preso carta, penna e calamaio e ha denunciato questa vicenda giustamente alle autorità competenti. Con noi anche l'assessore Paola Cianci, l'assessore del comune di Vasto, con delega al benessere degli animali, quindi diciamo la persona che più ci interessa per questo tipo di argomento. Ospite con noi l'immancabile Veronica Ruggero, autrice del programma e nostro pilastro e riferimento giornalistico. Signor Marco Cannarza, prima di iniziare con lei, per capire un attimino come sono andate effettivamente le cose, perché naturalmente questo tipo di argomento ha certamente evidenziato un certo allarmismo sociale fra la popolazione, in quel periodo è stato pieno zeppo di commenti che, insomma, di persone giustamente e legittimamente spaventate. Vogliamo fare un piccolo riassunto di quello che effettivamente è successo con il servizio di Veronica Ruggero, montaggio di Enrique Montalbano. Cavalli trainati con una corda e costretti a correre dietro ad una macchina nella zona industriale di Punta Penna. Così le guardie della GEAB hanno riacceso un faro sulle corse clandestine dei cavalli, a cui il territorio abruzzese non è nuovo. Sarebbero due, secondo quanto riportato dalle guardie, i cavalli trainati dalle briglie e con la corda è costretti a correre dietro alle auto sia di notte che sporadicamente di giorno. Sulla vicenda, dopo varie segnalazioni provenienti da più parti, sono intervenuti e stanno indagando anche i carabinieri forestali e la polizia locale, che si sono recati in loco accompagnati dai veterinari della ASLE. Al momento pare che il verbale stilato abbia riportato alcune irregolarità e che le uniche sanzioni combinate siano di tipo amministrativo per dei mancati passaggi di proprietà. La vicenda, che risale all'agosto scorso, nonostante i veterinari non abbiano mosso accuse di maltrattamento animale in questo preciso caso, ha mosso le coscienze sia delle associazioni animaliste che della politica. L'Abruzzo non è nuovo a questo tipo di pratiche. Solo tre anni fa, nel 2021, nella zona industriale di Avezzano, cavalli e bighe si sarebbero sfidati in corse illegali che sono finite anche nel mirino della procura. Ma gli episodi più recenti sono solo la punta dell'iceberg. Infatti, tra il 2007 e il 2008, ben 33 persone sono finite al centro di un'inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria, conclusasi a causa della prescrizione dei reati contestati, proprio per le corse clandestine organizzate più o meno nella zona. I carabinieri di Avezzano, alla fine del 2007, hanno infatti avviato un'indagine e posto sotto sequestro 30 esemplari di razza equina e 12 immobili, smantellando una vera e propria organizzazione di rom stanziati tra Avezzano, Rieti e Frosinone, dedita alle corse clandestine dei cavalli. Secondo la cronaca, nel 2012, anche la città di Teramo è stata testimone di altri episodi simili. Le modalità, almeno secondo quanto riportato dalla stampa, sarebbero sempre le stesse, cavalli e bighe in corsa in strada e numerose persone ai bordi della carreggiata per assistere alla gara. Non è sempre stato possibile accertare in maniera chiara se le gare siano anche accompagnate da un giro di scommesse. Interessante per comprendere il fenomeno è il rapporto Zoo Mafia 2023, redatto dalla LAV, che riporta che nel 2022 sono stati 23 sul territorio nazionale i procedimenti per organizzazione di combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate e 68 gli indagati. La maggioranza degli indagati riguarda proprio l'organizzazione di corse clandestine di cavalli. Signor Marco Cannarsa, credo che il servizio magistralmente scritto e redatto dalla nostra Veronica Ruggero ha dato secondo me una linea molto chiara di questo fenomeno, di questa situazione, anche perché lo ripetiamo è un tipo di fenomeno che crea ovviamente molto allarmismo sociale per tutta una serie di questioni che vedremo senz'altro più avanti nel corso della trasmissione. Lei giustamente nel corso di quest'anno ha preso carta penne e calamaio e da buon cittadino, oltre che da comandante provinciale della GEP, che ricordiamo sono le guardie ecologiche ambientali volontarie, ha denunciato giustamente e correttamente, come tutti dovrebbero fare, il fenomeno alle autorità competenti. Ci può dire lei che cosa ha visto e che cosa ha segnalato alle autorità? Innanzitutto buonasera, a me sono arrivate delle segnalazioni di cittadini in primis, che è stata poi la molla che mi ha fatto scattare per andare a vedere di che cosa c'era. e in quest'area, un'area al limitro, fatta tra l'altro nella riserva di Punta d'Erci, un'area fantastica e c'è a basso, proprio adiacente alla riserva, c'è un terreno di proprietà privata dove ho visto che c'era all'inizio del mese di gennaio, perché le indagini risalgono a gennaio e c'era un cavallo con diverse bighe di diverso tipo. Poi perlustrando la zona, il cavallo comunque era rinchiuso in uno dei casolari, completamente al buio, senza avere luce e ripeto con queste bighe. Ho personalmente visionato un allaccio abusivo di corrente per prelevare con una pompa l'acqua che serviva evidentemente. Uno stato nell'area non certo pulita. Quindi c'è un problema sanitario e un problema di evidentemente benessere sanitario, benessere animale nei confronti del... Assolutamente sì, perché io non capisco, però quando ci andai io a gennaio ricordo bene che il cavallo aveva anche un'abbastanza infestazione di zecche, che aveva diversi effetti. Questo è sicuramente importante, però per rimanere centrati poi all'interno dell'argomento che stiamo trattando, lei ha visto anche delle corse clandestine o non so, per esempio con questo cavallo trainato che trainava una biga? Personalmente le ho vissi non fare la corsa, le ho vissi andare su strada con la biga, le ho vissi accedere nell'area della riserva di Punta d'Erci e portare il cavallo in spiaggia, in acqua, in un'area di riserva. Ho visto personalmente il cavallo che veniva portato con una corda e con una macchina. Purtroppo l'unico elemento che è stata la segnalazione che mi ha fatto andare lì per vedere cosa trattava, non sono riuscito a rilevarlo, come non è riuscito a rilevarlo da quello che so. I carabinieri forestali, i quali hanno sì rilevato che là c'è stato un abuso, nel senso che si sono appropriati di un'area privata, già questo penso che sia un dato non da poco. Però insomma, voglio dire, lei comunque ha oggettivamente visto con i suoi occhi un cavallo che veniva, per esempio, portato con la fune da una macchina e comunque questo cavallo che portava la biga. Insomma, credo che sia un riferimento molto preciso. Senta, un'ultima questione le volevo dire, almeno in questo spezzone di puntata. Lei ha anche documentazione fotografica o video che ha consegnato poi alle autorità? Io c'ho un piccolo video, dove si vede un bambino scendere dalla biga. Lo ha consegnato alle autorità? No, no, ce l'hanno, sì. Ah, quindi lo ha consegnato alle autorità? Sì, sì, mi sembra che... Lo ha consegnato alle autorità. Non voglio... non sono sicuro al 100%, ma mi sembra che l'abbia consegnato. Mi sembra. Allora, al di là, insomma, se lei tecnicamente l'abbia consegnato, no, questo materiale fotostatico è oggettivamente presente. Assessore Paola Cianci. Lei ha varie deleghe nel suo comune. Complimenti, insomma, ho visto che, diciamo, ha parecchi impegni a cui sottostare. Tra le varie deleghe, lei ha anche la delega al benessere degli animali. Faccio, diciamo, un piccolo cappello, perché è importante capire anche per i telespettatori, diciamo, l'autorevolezza dei nostri interlocutori. Lei è un assessore, è una persona che fa politica da diverso tempo, è una persona che conosce molto bene il territorio, è stata candidata anche alle scorse elezioni regionali. Questo per dire, insomma, che lei fa politica, conosce il territorio. Ened è un'amministratrice, insomma, che lo fa. Fa questo lavoro da tanto tempo. Ora, Marco Cannarza ha fatto questa segnalazione. Immagino che voi l'avete ricevuta. E quindi, che cosa avete fatto poi? Allora, intanto buonasera e grazie per l'invito. Marco Cannarza, in qualità del ruolo che riveste, ha fatto questa segnalazione molto preziosa e lo ringrazio, come ringrazio tutte le cittadine, cittadini che costantemente hanno, dimostrano grande attenzione per il territorio, soprattutto per un'area molto pregiata dal punto di vista ambientale, che è appunto la riserva naturale di Punta Derci. E la segnalazione di Marco ha comportato una serie di interventi, come ricordava lui stesso, da parte della forestale, da parte anche dei servizi del Comune di Vasto, perché anche il servizio parchi e riserve del Comune di Vasto ha provveduto a fare una segnalazione circa l'utilizzo abusivo delle strutture che si trovano all'interno di questo terreno privato. Ci sono stati degli interventi da parte della Polizia Locale, da parte dell'ASL, in cui è stato rilevato in effetti che veniva utilizzato come stalla abusivamente. Non era stata autorizzata, esattamente, e poi hanno rilevato anche la presenza dell'animale e del cavallo che si trovava in quel momento in buona condizione di salute. Ovviamente da parte mia, dal punto di vista politico, c'è stata una grande preoccupazione, perché se il Sindaco di Vasto ha ritenuto di assegnare la delega al benessere degli animali a una componente della sua giunta è perché cerchiamo di avere a cuore la tutela non solo della flora, ma anche della fauna, quindi degli animali all'interno del nostro territorio. Infatti anche pubblicamente ho manifestato questa preoccupazione e ho chiesto anche io un intervento da parte della Polizia Locale, soprattutto perché la corsa clandestina dei cavalli è sinonimo di criminalità, è sinonimo di riciclaggio di denaro e soprattutto espone al rischio l'animale dal punto di vista della salute, perché sappiamo che per potenziarlo fisicamente vengono somministrate anche sostanze dopanti, farmaci che sicuramente non fanno bene all'animale stesso. Questa sua azione che lei correttamente aggiungerei ha fatto come giustamente va fatto, cosa ha portato? Cioè c'è stato poi l'apertura di un'indagine da parte della procura, sono stati sequestrati questi animali, perché vede, questo faccio, apro una piccola parentesi, il fatto che noi stiamo trattando va molto oltre il problema che riguarda la corsa clandestina di per sé, perché c'è innanzitutto un problema di maltrattamento di animali, perché guardi me ne assumo la responsabilità, glielo dico io, portare un cavallo con la fune dalla macchina è un reato, quello, bello e buono perché stiamo maltrattando l'animale. C'è poi un problema che riguarda tutto il sottostante, le potenziali forse clandestine, quindi per esempio scommesse che riguardano quella corsa, ma possono riguardare, per esempio, sono cose che tra l'altro riguardano molto spesso anche delle volte la criminalità organizzata. Questa sua azione politica che cosa ha prodotto? Cioè c'è un'indagine della procura, avete fatto un'informativa, i cavalli sono stati sequestrati, cosa è successo? Allora è ovvio che la procura della Repubblica fa le indagini sulla base delle prove che gli vengono fornite, come ricordava Marco la polizia locale ha fatto dei sopralluoghi, però non ha rilevato la presenza di situazioni di questo tipo. La ASL nel momento in cui si si è trovata sul posto e ha visto come si trovava l'animale non ha rilevato che fossero stati effettuati maltrattamenti sullo stesso, quindi diciamo ad oggi queste sono le notizie che noi sappiamo, però è ovvio che da parte nostra c'è l'impegno a collaborare. Mi chiedo scusa, la interrompo, voglio dire sul fatto del vostro impegno penso che sia un fatto oggettivo. Aggiungo un altro elemento a questa discussione, dalle fonti di giornale che sono girate in queste settimane si è appurato che allo stato attuale le istituzioni, quello che hanno fatto, non lei, dico le istituzioni che ne hanno facoltà, hanno semplicemente elevato delle sanzioni amministrative per dei mancati passaggi di proprietà. Il che Veronica Ruggero è quasi paradossale, cioè qui stiamo parlando di un reato che crea un allarmismo sociale impressionante anche perché bloccare una strada per fare una corsa clandestina, ora che sia un cavallo che sia 100 cavalli e non ha importanza comunque si blocca una strada, quindi si crea proprio un blocco della normale attività di tutti i cittadini onesti, è senza dubbio un grosso reato a cui si aggiunge come dicevo prima la possibilità sia di maltrattamento di animale sia anche di eventuali scommesse sottostanti questo aspetto. Come si può arrivare a distanza di quasi 9 mesi, il signor Cannarsa qui ha fatto delle segnalazioni a partire da gennaio a una multa per mancato passaggio di proprietà, c'è una carenza delle istituzioni? Allora, questo non si può dire anche perché non conoscendo retroscena dell'indagine naturalmente noi non sappiamo che cosa è stato fatto, a che punto sono in questo momento, non abbiamo una visione ancora chiara. Sicuramente la giustizia ha anche dei tempi e ci vogliono anche degli elementi importanti. A volte chi sta in quel mondo, quello della criminalità, che si tratti di cavalli, che si tratti di altro, sa bene come eludere a volte i divieti e la legge. Quindi quello che però è importante secondo me non è tanto il fatto di cronaca in sé per sé, ma il fatto che questo riaccende un faro su un fenomeno, cioè su un malcostume che da tanti anni a questa parte, perché non è il primo episodio, parliamo addirittura del 2007, 2008, quindi parliamo comunque di 13, 14, 15 anni fa, continua ogni tanto a spuntare e quindi poi questo apre su tanti mondi, quelli che ha detto l'assessore, quindi il riciclaggio di denaro, piuttosto che le organizzazioni, piuttosto che continua comunque a spuntare, non c'è invece un radicale, diciamo così, controllo forse più importante, anche perché purtroppo lo sappiamo, insomma, le forze dell'ordine sono oggi come oggi anche impegnate in ben altro e quindi poi torna fuori, no? Certo, infatti lo abbiamo detto anche nel servizio che hai magistralmente fatto, diciamo è un fenomeno che è saltato fuori in Abruzzo, non è la prima volta, ma è successo per esempio nel 2011 ad Avezzano, quindi insomma voglio dire, questo fenomeno c'è ed è evidente, però torna a lei assessore, voglio dire, è chiaro che tutte le istituzioni devono fare il proprio per cercare di contrastare un evento così altamente, diciamo illegale, ecco chiamiamolo così, però il punto che io pongo è, lei è assessore di un territorio comunque abbastanza piccolo, ora è una cittadina di 40 mila abitanti, voglio dire non parliamo di Roma, Milano o di una qualsiasi altra capitale europea, non sto dicendo che è semplice, sto dicendo che è un fatto numerico, io credo che chi amministra un'area così sufficientemente piccola più o meno conosce il territorio, quindi quello che voglio dirle, è possibile voi nel passato non avete avuto mai contezza di situazioni simili o che riguardano lo stesso soggetto, i stessi soggetti, perché vede noi dalle notizie di stampa sappiamo che per esempio già nel 2023 ci sono state delle segnalazioni perché dei cavalli passeggiavano, entravano proprio all'interno della battiglia del diciamo di Vasto dove sappiamo immagino c'era un'ordinanza che restringeva questo accesso, cioè assessore è possibile voi siete caduti dal pelo? No, assolutamente non siamo caduti dal pelo perché la riserva naturale di Punta d'Erci, oggi anche la riserva di Marina di Vasto sono gestiti da una cooperativa che è la cooperativa Coggextre che credo che chi mi ascolta e chi ci ascolta questa sera conosce benissimo perché è una delle cooperative che ha maggiore esperienza nel campo della gestione di aree protette e la stessa, e cito la Coggextre che insieme alla Lega Ambiente hanno più volte segnalato la presenza di come confermava anche Marco di cavalli sulla spiaggia soprattutto nel periodo estivo che la promiscuità ovviamente con i turisti e con i residenti che frequentano la riserva e la spiaggia non è sicuramente una convivenza ottimale, per questo poi ci sono stati gli interventi da parte della Capitaneria, da parte della Polizia Locale per cercare di arginare il fenomeno così come c'è stato e lo abbiamo confermato entrambi negli interventi precedenti, il momento in cui sono arrivate le segnalazioni della GEAP, della Coggextre, della Lega Ambiente che gestisce con la Coggextre e la riserva, ma anche di cittadini e delle cittadine che in effetti si sono preoccupati della presenza degli animali in quell'area e anche dell'utilizzo abusivo di quella struttura che comunque è stata rilevata dagli uffici tecnici del Comune di Vasto. Sì è chiara la sua risposta assolutamente, lei informalmente, perché secondo me è importante anche questo passaggio, ha avuto modo poi di interloquire per esempio con i carabinieri forestali o con l'ASA dicendo signori guardate che qui sul territorio io ho un problema di illegalità evidente e di maltrattamento di animale, cosa le hanno detto se l'ha fatto? Allora io ho avuto ovviamente in questi mesi, ma fino a qualche giorno fa, interlocuzione sia col comandante della forestale, con il medico dell'ASL veterinaria, con la polizia locale ovviamente, e loro hanno confermato quello che hanno rilevato nel momento in cui sono andati sul posto in seguito appunto alle segnalazioni, ma anche in seguito a delle attività di monitoraggio. È ovvio che noi restiamo sempre con l'occhio vigile e sicuramente le segnalazioni e gli interventi che fanno le associazioni per noi sono preziosissimi perché da quell'attività associativa, dalla presenza della gestione della riserva e dei tanti cittadini e dalle tanti cittadini che la frequentano, possiamo acquisire elementi in più, ovviamente anche con la presenza di un presidio della polizia locale, dei carabinieri forestali che possono monitorare l'area, possiamo avere degli elementi in più per continuare a far sì che se questo fenomeno effettivamente è presente venga poi arginato e combattuto e la procura della Repubblica a quel punto è ovvio che ha degli elementi in più per portare avanti un'istruttoria che sicuramente sarà in corso. Il punto è questo, cioè questi cavalli o questo cavallo non è stato sequestrato perché diciamo c'è anche poi una questione di normativa ribadisco per quel che riguarda il benessere animale, cioè se un animale c'è anche una potenziale possibilità che venga maltrattato, quell'animale deve essere sequestrato e messo poi nelle disponibilità dell'autorità giudiziaria per le rilevazioni del caso, ma in ogni caso l'animale andrebbe salvaguardato e questo non è stato fatto e ora al di là di chi è la responsabilità, assessore, questo noi lo dobbiamo ovviamente sottolineare, cioè quell'animale non è stato sequestrato o quegli animali non sono stati sequestrati. Non sono stati sequestrati perché i sequestri e l'applicazione delle norme e le conseguenze e gli effetti, ovvero la disposizione del sequestro, può avvenire nel momento in cui si certifica effettivamente quello che ci siamo detti fino ad oggi, anche perché poi ognuno agisce in base alla legge e in base alle competenze. Devo chiudere, Veronica Ruggero, velocissimamente, parliamo un'altra volta di istituzioni che vanno alla velocità delle lumache? Purtroppo, come diceva l'assessore, ci vogliono degli elementi, la giustizia non è quella che noi vorremmo spesso, comunque anche un'indagine a volte, anche per le stesse forze dell'ordine, per chi la conduce e per chi la deve portare a termine, ovviamente non dà i risultati sperati, non sempre. Grazie Veronica, grazie agli ospiti intervenuti, noi ci vediamo alla prossima puntata di Chimera, mai contro, mai senza. Ale! Il bambino Barbershop Mancini è un nuovo concetto di barberia, dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali Air Tattoo e barba con vaporizzazione e ozonoterapia. Il Barbershop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in Via Mazzarini, numero 47, ad Avezzano. Barbershop Mancini Abia Develle Mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo di 7-2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica. Mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo ricore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro pc, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36.000 persone. Anzi, 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici.